Il Presidente del Presidente di Montagnano e abbiamo letto in apertura che è una società che seguì direttamente come Presidente dal 2022 ma già è il Vice Presidente dal 2019. Grazie a tutti. passaggi di persone, ma sempre all'interno della comunità, insomma. Ecco, e quest'anno il campionato vi sta dando soddisfazione perché, appunto, ricordiamo il puntagnano militare nel campionato promozione del Giro del Cigi e in questo momento è il quarto posto in classifica con 40 punti. Sì, mentre venivo qua mi ha scritto un mistico, ha scritto facile parlare adesso, mi ha detto, vabbè, vediamo, si vincerebbe le opere per la tua parola. Anche perché è arrivato in un momento veramente difficile, insomma, perché la partenza non è stata così, è tutta bruciante proprio in tutti i sensi, anche perché...